In attesa che le preoccupazioni per il futuro dell'ex-ILVA tornino al Quirinale, dove tra poco più di un'ora il Presidente della Repubblica riceverà i segretari di CGL Cisle Will, per la più grande acciaieria europea è stata un'altra giornata ad alta tensione. I magistrati di Milano hanno chiesto ad Arsenal Mittal di non prendere ulteriori iniziative che portino allo spegnimento degli impianti prima di discutere mercoledì prossimo il ricorso d'urgenza presentato dai commissari dell'ex-ILVA. La Procura di Taranto, inoltre, ha chiesto alla Guardia di Finanza di svolgere accertamenti nell'ambito dell'inchiesta per distruzione di mezzi di produzione e appropriazione in debita. Quest'ultima ipotesi in particolare fa riferimento al fatto che il magazzino del siderurgico sia stato svuotato della merce che c'era al momento della consegna d'Arcelor Mittal e mentre a Taranto oggi hanno protestato gli autotrasportatori e i lavoratori dell'indotto ed è tornato a riunirsi il Consiglio di Fabbrica, il Governo cerca di far cambiare idee all'azienda che ha deciso di spegnere gli impianti e quindi chiudere lo stabilimento il 5 dicembre. Tra le misure allo studio un pacchetto di ammortizzatori sociali per 2000 lavoratori, uno sconto sugli affitti e anche la possibilità di un ingresso di cassa depositi e prestiti nell'azionariato. Ma il nodo cruciale resta quello sullo scudo penale. Anche il Vescovo di Taranto, Monsignor Filippo Santoro, ha fatto notare che al momento nessuno accetterebbe di gestire lo stabilimento senza una sorta di immunità sui reati pregressi e tra le centinaia di emendamenti alla manovra economica ce n'è anche uno presentato da Fratelli d'Italia che prevede appunto la reintroduzione dello scudo penale.